E' l'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Città Sant'Angelo, Arturo D'Adona, 56 anni, il candidato a sindaco per il Comune Angolano per azione politica. D'Adona conosce a fondo le dinamiche del territorio e ha seguito anche operazioni delicate e interventi investigativi complessi nel corso della sua carriera, costellata di riconoscimenti da parte dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa. Ovviamente tra i primi punti all'ordine del giorno, nel caso in cui dovesse diventare sindaco di Città Sant'Angelo, c'è la sicurezza. Assolutamente sulla sicurezza dei cittadini, che forse è la prima cosa che tutti mettono forse in un'altra posizione, ma la sicurezza del cittadino è importante e con quella lo faremo attraverso una concreta cinturazione del territorio con sistemi di videosorveglianza più adeguati. E poi dicevamo sui giovani, perché la crisi economica purtroppo incombe molto sui giovani, che noi abbiamo dei ragazzi che sono assolutamente intelligenti e preparati, che spesso sfuggono dal nostro territorio. Il coordinatore provinciale di azione politica Roberto Ruggeri racconta di aver cercato fino alla fine il confronto con la coalizione di centrodestra per un unico aspirante a sindaco al comune di Città Sant'Angelo. Quadra che non è stata trovata e dunque strade che si sono divise con Ruggeri che dice abbiamo scelto il candidato migliore. Gli altri non sono centrodestra, fanno apparire che siano il centrodestra, ma non è assolutamente così se si pensa soltanto che all'interno di questa lista ci sono 4-5 elementi che provengono dal centrosinistra, ma non come pensiero personale che ci potrebbe anche stare. Persone che hanno avuto incarichi nel centrosinistra, persone addirittura vice sindaco nelle amministrazioni del centrosinistra che ha governato Città Sant'Angelo per 25 anni. incarichi di governo, incarichi nelle partecipate del comune di Città Sant'Angelo, quindi dire che il centrodestra sta dall'altra parte credo che sia esattamente l'opposto.